Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Allora, oggi volevo condividere con voi quella che poteva essere davvero una brutta, bruttissima esperienza che mi è capitata per l'appunto nel pomeriggio di ieri, cioè sabato, e nel mio girovagare su internet alla ricerca di qualcosa di carino da acquistare nell'ambito di abbigliamento e di accessori. Quando ad un certo punto mi sono imbattuta in un sito che proponeva articoli plurimarca e tutte marche abbastanza note, quindi mi sono incuriosita ed ho iniziato la ricerca scorrendo tra i vari modelli, tra le varie categorie, perché comunque era ben fatto sto sito, per ogni articolo c'erano un bel po' di foto che dettagliavano l'articolo stesso. La cosa strana del sito è che questi articoli, sebbene fossero di marchi abbastanza noti, erano ad un costo veramente molto ridotto, cioè intorno alla cosa che costava di più erano tipo dei cappotti della Desigual che costavano intorno ai 27-28 euro, però siccome recitavano nella descrizione del sito stesso che loro proponevano degli articoli di collezioni anche un po' datate, quindi ho pensato magari sono rimanenze di magazzino e le danno a poco. Quindi scorrendo, scorrendo, praticamente ho riempito il carrello con presso poco più di 200 euro di spesa. Ad un certo punto ho detto ma sì, va bene così, procedevo per effettuare il pagamento e al primo tentativo, che era mediante carta di credito, mi dava un messaggio del tipo che qualcosa era andato storto, bisognava ripetere l'operazione. Io ho ripetuto la seconda volta l'operazione per effettuare il pagamento e ad un certo punto mi è venuto un dubbio e quindi sono andata su Google a cercare qualche recensione di questo sito per vedere magari se c'era qualcuno che ne parlava bene o male per capire un po' cosa stava accadendo, però comunque mi sono fermata con l'ordine e non ho proceduto. Quando a un certo punto poi mi ritrovo tra le email da parte loro un email che mi chiedeva di completare l'ordine effettuandolo tramite quell'email un link diretto a cui accedendo bisognava poi inserire i propri dati sia della carta di credito che per l'accesso su poste.it e quant'altro. E già la cosa mi è sembrata strana perché ora chi come me ha effettuato in precedenza ordini online determinate cose non le chiedono, cioè vai a effettuare il pagamento e il tutto si conclude lì. E già la cosa mi è sembrata un pochino strana, quindi ho annullato tutto, ho rimasso tutti gli articoli dal carrello e ho lasciato perdere. Dopo qualche ora, vedendo forse che io non ho dato risposta in merito a questa email, mi hanno ricontattato chiedendomi con un bel po' di insistenza di concludere l'ordine mediante pagamento e già la cosa mi è sembrata strana. Comunque io cosa ho fatto? Sono andata sul sito, ho rimosso tutti gli articoli dal carrello, ho cancellato l'ordine che era comunque lì rimasto in promemoria e praticamente ho cancellato via tutto, le email e quant'altro. Ora, siccome io ho la fortuna di abitare vicino a un tipo che fa il maresciallo in una caserma di carabinieri, sono andata a chiedere informazioni proprio a lui se era in atto una truffa vera e propria come immaginavo io e mi ha confermato esattamente quello che pensavo io. Gli ho mostrato le varie email che ho ricevuto e mi ha confermato che se io avessi inserito i dati da loro richiesti, a oggi, in questo momento, mi ritroverei praticamente col conto svuotato o con la postpay praticamente a zero. Quindi è un qualcosa da non fare assolutamente quando vi richiedono di inserire dati personali e soprattutto dati di accesso a conti bancari e affini perché poi vi ritrovate veramente in rosso. Mi ha spiegato inoltre che determinate azioni vanno denunciate alla polizia postale che poi è l'ente preposto che va a occuparsi di questo tipo di faccende di queste truffe online perché comunque al giorno d'oggi, siccome il mercato online si è infittito ce ne sono veramente di ogni tipo di questo tipo di truffe però comunque mi ha spiegato anche che siccome ce ne sono milioni di milioni di questo tipo di denuncia nel frattempo che vanno a discutere della mia denuncia presso questo sito cioè praticamente il sito ha già cambiato nome, intestazione soprattutto sono siti fantasma del tipo che li creano sul momento con un determinato nome, con determinati contatti poi magari tra un mese questo sito non esiste più e al posto suo ne esiste un altro e continua allegramente la truffa online. Ho voluto quindi condividere con voi quella che poteva risultare davvero una brutta esperienza affinché chi si trovi nella mia stessa situazione sappia come agire in merito e soprattutto sappiate che anche se nel vostro diritto andare a denunciare o segnalare determinate situazioni se sentite il bisogno di farlo fatelo però comunque sappiate che determinate denunce vanno a finire un po' nel mucchio non è che oggi fate la denuncia e domani la postale parte e va a interagire con questa azienda che ha tentato di truffarvi quindi fortunata di esserne uscita illesa e da oggi in poi comunque farò molta più attenzione quando farò acquisti online e soprattutto per fare i miei acquisti online mi cercherò dei siti ovviamente più noti e soprattutto dei metodi di pagamento che è possibile poi comunque se c'è qualche anomalia durante il processo di ordine andare poi comunque a bloccare il tutto istantaneamente bene sperando di esservi stata d'aiuto in tal senso perché comunque molti di noi tendono a fare acquisti online comodamente da casa spero che questa esperienza condivisa con voi oggi possa essere da monito a non capitare anche voi tra le grinfie di determinati avventori che cercano solo di spillarvi dei soldi quindi fate sempre attenzione come farò io da oggi e ora vi saluto vi auguro buona continuazione di domenica e ci sentiamo presto al prossimo video alla prossima live il prossimo tutto baci baci da gossip grazie 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 grazie